carissimi fratelli e sorelle amici pace del signore buona giornata di vi benedica oggi continuiamo a leggere dal libro di reggi vims sulle aree della preghiera libro edito da di media abbiamo letto nel capitolo 1 la l'importanza del pregare anzi l'invito che dio ci fa di andare a lui e di pregarlo abbiamo poi considerato nel capitolo 2 la necessità di iniziare con l'adorazione oggi continueremo a leggere nel capitolo 3 che ha come titolo proseguire con la confessione afferma l'autore che l'oggetto più importante di ogni abitazione non si compra nei negozi di mobili non si acquista perché se ne ammirino i colori le rifiniture o perché si armonizzi bene con il resto dell'arredamento gli uomini tranne quelli che vivono da soli forse neanche si occupano personalmente di trovare questo oggetto fondamentale portarlo a casa non è bello nessuno entrando dove abiti lo ammira richiede spesso la tua attenzione a volte preferiresti non doverci pensare nessuno fa mai apprezzamenti sulla necessità assoluta della sua presenza che supera di molto quella degli altri oggetti ritenuti importanti hai indovinato a cosa mi riferisco si tratta del cestino dei rifiuti sicuramente è stato uno dei tuoi primi acquisti è una priorità in qualunque casa senza il cestino della spazzatura non potresti vivere nella tua abitazione non avresti amici e nessuno vorrebbe mai venirti a trovare il suo valore supera quello che finora gli hai mai attribuito gli odori della casa si trasferirebbero sui tuoi abiti se non usassi il cestino dei rifiuti in modo appropriato nella vita di preghiera la confessione come il cestino della spazzatura pensaci senza confessione non ci si può accostare a dio la scrittura insegna che il peccato va allontanato altrimenti ci si ritrova soli non si può più contare sull'intervento soprannaturale del signore e si è esposti alle conseguenze nel male dice il salmista salmo 66 verso 18 se nel mio cuore avessi tramato il male il signore non mi avrebbe ascoltato la mancanza di confessione a dio confessa molte cose equivale a dichiarare che non siamo non abbiamo fatto ciò che il signore dice non possiamo dichiarare di essere amici di dio se non consideriamo il peccato in modo conforme alla sua opinione se diciamo di essere peccato infatti dichiara giovanni inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se rileggiamo il verso iniziale confessiamo i nostri peccati egli è fedele giusto le perdonarci e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi la santità assoluta di dio richiede quindi che nessuno possa gustare la sua presenza se non confesse i propri peccati nessuno può servire il signore se non è da lui purificato e il profeta isaia ricorderete sicuramente la visione che abbia nel capitolo 6 ne sa qualcosa l'adorazione dichiara chi dio è e nello stesso modo la confessione rivela chi noi siamo i personaggi biblici che hanno vissuto in contatto con gesù hanno considerato la confessione necessario e naturale in luca v ad esempio quando pietro capisce ritrovarsi di fronte all'iddio incornato risponde a tale rivelazione confessando signore allontanati da me sono un peccatore chi non confessa questo in realtà dichiara di non aver bisogno o non desiderare il signore dio onora chi lo desidera e uno dei segni che distinguono la vita cristiana autentica è una costante confessione a dio e un continuo ravvedimento una preghiera che inizia con l'adorazione inevitabilmente naturalmente continua con la confessione perché l'adorazione concentra l'attenzione su un dio tre volte santo vedi isaia capitolo 6 verso 3 e allo stesso tempo evidenzia che siamo persone impure sempre isaia sempre capitolo 6 verso 5 stavolta vedere dio com'è realmente ci spinge a confessare a lui la nostra indegnità l'apostolo paolo insegna che la legge che è anche una rivelazione del carattere di dio è come uno specchio che mostra il peccato dell'uomo forse hai comprato la pattumiera di casa senza pensarci troppo né fare programmi tuttavia rifletti sul valore immenso della confessione nella vita quotidiana perché questo merita considerazione e attenzione forse la cosa ti può far sorridere ma per alcuni un ostacolo alla confessione è quello di pensare che con essa si svelino al signore dei segreti che prima ignorava in realtà nel confessare il peccato non facciamo sapere a dio cose nuove non gli riveliamo informazioni scioccanti il primo peccato registrato nella scrittura mostra che non si può nascondere nulla allo sguardo del signore e in ebrei 4 capitolo 13 è scritto che non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto e davide nel salmo 139 verso 6 esclama la conoscenza che hai di me è meravigliosa troppo alta perché io possa arrivarci non c'è parola nella bocca pensiero nella mente luogo dove ci si trovi situazione che si attraversi o direzione che si prenda capello che cresca o cada senza che dio lo sappia in anticipo questo ragionamento spinge davide ad una confessione che si può parafrasare così non sei tu che non mi conosci signore ma sono io che non mi conosco tu sai tutto di me investigami e dimmi ciò che vedi parafrasi del salmo 139 verso 23 e 24 la confessione quindi non rivela a dio qualcosa che ignora ma ci libera da ogni peso e ci proietta tra le sue braccia dio sapeva già tutto e il suo amore non cambierà mai perché affonda le radici nel consiglio eterno della trinità adempiuto al calvario e allora cari alla luce di tutto questo vogliamo ogni volta che ci accostiamo a dio adorarlo e nel paragonarci alla sua santità confessargli i nostri peccati che possono essere pensieri, parole, reazioni, azioni che possono essere anche omissioni perché chi sa fare il bene non lo fa commette peccato non vergogniamoci o meglio pentiamoci e chiediamo perdono al signore e allora ogni peso, ogni ostacolo che c'è tra noi e dio scomparirà e la nostra preghiera si eleverà nella sua presenza come un profumo di odor suave facciamolo anche stamattina dio ci benedirà la pace e la grazia di dio sia con tutti quanti noi